Segnali incoraggianti arrivano dall'avvertenza Betafence di Tortoreto, azienda leader sul mercato internazionale nella produzione di recensioni in metallo, interessata da un processo di ristrutturazione e cambio proprietà che potrebbe portare ad una riduzione del personale. Sul tavolo istituzionale, convocato dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, la Betafence ha annunciato un incremento dei livelli produttivi nel 2024, che potrebbe portare ad una riduzione del numero di addetti in esubero. Assessore, la situazione della Betafence sembra in via di miglioramento, sebbene i sindacati la pensano diversamente. Sì, ieri c'è stato il tavolo in Regione, rispetto alle argomentazioni che hanno formulato i vertici, sembrerebbe che ci siano spirali positivi perché ci saranno nuove commesse. Adesso, logicamente, attendiamo che il tutto venga riportato in un piano industriale, quindi avere segnali concreti, però sembrerebbe che queste nuove commesse possano diminuire gli esuberi. Quindi siamo molto fiduciosi, come Regione continueremo a fare la nostra parte, mettendo in gamboniazione a tutti i lavoratori. Non sono altrettanto soddisfatti i sindacati che accusano. La società ha prospettato un aumento di volume nel corso del 2024, con una possibile conseguente riduzione delle ore di cassa integrazione, con la possibilità di ridurre anche il numero degli esuberi del 30%. Tutto a parole, niente di scritto, nessun piano industriale. Un futuro, insomma, che continua ad essere incerto e a non andare nella direzione di una concreta ripresa per il sito di Tortoreto. Quanti sono i lavoratori che, in teoria, rischierebbero il posto di lavoro? Adesso dobbiamo attendere, appunto, queste nuove commesse. Poi, nel piano industriale, vogliamo capire, appunto, quali sono i numeri e quindi continueremo a migliorare e attendiamo un piano industriale effettivo.